... È una nuova inchiesta giudiziaria questa volta sulla caserma Campomizzi, 12 indagati, si parla di illegittimità nei lavori di prima ricostruzione e adattamento per gli studenti, quale pensiero anche alla luce della trattativa con la difesa che c'era per questa struttura? Ma questo non inficia chiaramente il ruolo che oggi svolge la Campomenzi per quanto riguarda gli studenti, dopodiché massima fiducia alla magistratura, io credo che la magistratura o meglio le autorità giudiziarie su esposti su indagini o segnalazioni svolgono a serie di indagini, poi chiaramente la magistratura rivela che ci sono aspetti che vanno approfonditi attraverso il servizio di garanzia su indagini più pregnanti, poi nel caso anche un rinvio a giudizio ci sono i gradi di giudizio, questa è una regola, dobbiamo sempre essere assolutamente garantisti, ma è una cosa che ho imparato anche per le vicende che coinvolgo nel Comune, che bisogna avere la massima fiducia nel lavoro della magistratura, che è un pezzo importante del lavoro che tutti noi compiamo, il ruolo dell'arbitro, che non è sempre un ruolo facile, ma senza l'arbitro non si giocherebbe.